Musica Prima di iniziare con questo video volevo informarvi che domenica 5 novembre sarò presente a Luca Comics fino alle ore 3.30-4 Per seguire i miei spostamenti e per incontrarmi alla fiera vi invito a seguirmi su Instagram per seguire le mie storie Detto ciò ragazzi buona visione Umani di merda, umani di merda non vi sopporto mi state sulle balle No ma veramente sono il guardiano dei mari e non sono di tipo acqua Chi ha avuto l'idea geniale alzi la mano che vi giuro che sparo un aerocolpo che vi secco sul posto Sì ma qui non è che ogni volta che suono una campanella io devo prendere e salire sulla torre Cioè che so uno studente all'intervallo spiegatemi Con te partirò Mi piace la terra Mi piace l'acqua Ma perché ogni 10.000 anni vi devo fare da babysitter quando litigate? Glow, don't cryogra, state zette, fatemi dormire Il triangolo no Non l'avevo considerato Sì ho capito cosa sono queste etichette, che sono in sconto da pittarello, fatemi capire Dai Archiast, fammi uscire, fammi uscire, non ho fatto niente, non è colpa mia se ti ho detto che la pasta non era buona Mi fai uscire Io ho veramente fatto tutti questi sforzi per creare un mondo in cui la gente è ferma e aspetta l'allenatore? Che fallimento che sono Qualcuno mi stacchi questi cespugli che non so perché sono qui aiuto No ragazzi mi prego, mi prego salvatemi, non voglio entrarci in quella borsa, mi stanno schiavizzando, mi prego No raga ma io, cioè, a cosa servo tutto ciò? Avete tutti un ruolo, non immaginatemi così Ragazzi, da domani a dieta perché io mille chili non li voglio più pesare Oh, eh, e vedi che ha funzionato sta cazzo di dieta? Minchia Solga se c'hai ragione It's moving It's alive It's alive It's alive It's moving It's alive It's alive It's alive It's alive It's alive In the name of God Now I know what it feels like to be God It's alive Grazie a tutti.